Potremmo stare qui a parlare di quanto bene ha giocato il nostro Yannick Sinner nell'ultime due partite del Masters 1000 di Miami ma rischierei davvero di finire il video dopo appena un minuto e mezzo perché sì, l'alto tesino non si è limitato a vincerlo ma ha dominato e stravinto il torneo che lo ha fatto scoprire al mondo tre anni fa quando si fermò in finale contro Uber Urkac non si può parlare di partite in quanto tali perché di fatto non ci sono state, chiedetelo a Dimitrov e a Medvedev in questo mille Sinner come ipotizzato nello scorso video si è un po' comportato alla Djokovic con una partenza piuttosto lenta e poi un prosieguo in crescita alzando il livello partita dopo partita perché chi mai si sarebbe aspettato che dopo la prestazione con Grispor sarebbe andato a concedere appena tre game a Medvedev in semifinale io sicuramente no, visto che avevo pensato a Russo come vincitore del torneo e vabbè, qui ho toppato ragazzi e ciò che ha impressionato di queste prestazioni di Sinner è sostanzialmente l'impotenza dei suoi avversari Medvedev non ha giocato per niente bene questo va detto ma Yannick veramente è stato impressionante sotto ogni punto di vista e questo anche con Dimitrov però il bulgaro ha impostato la partita in modo diverso sembrava che alla partenza potesse essere una partita un pelino più equilibrata che ci potesse essere partita o quantomeno un set ma così beh, non è stato, l'abbiamo visto perché Sinner nella finale ha giocato addirittura meglio rispetto alla partita con il Russo profondità, angoli, recuperi impossibili cose che poi portano gli avversari a una sorta di esaurimento mentale a una resa prematura e Yannick adesso, come avete visto tutti, come abbiamo visto tutti, è numero due del mondo ma la sensazione è che gli stia stretta anche questa posizione davanti ora a Nole, che il mille della Florida non l'ha giocato e che dovrà comunque difendere più punti rispetto a Sinner nei prossimi due, tre mesi io dico che numero uno ci può anche arrivare prima del Roland Garros e la Sparogrossa e in questo periodo l'anno scorso Yannick stava passando quello che è il punto più basso se così si può chiamare, della sua giovane carriera e fece bene sostanzialmente solo a Monte Carlo dove anche lì però sprecò tanto in semifinale contro Rune in conclusione, fino a Wimbledon non ha nulla da difendere e secondo me non solo ha l'occasione di diventare numero uno prima del grande torneo sull'erba ma anche di conservare questa posizione creando un divario che si prefigura piuttosto ampio in questo momento probabilmente solo Alcarazze riesce a tenergli testa perché a questo punto ragazzi faccio fatica a pensare che anche Djokovic possa riuscire a contenerlo è vero, è pur sempre Nole, io sono sempre il primo e sono sempre stato il primo a ripetere che non bisogna mai sottovalutarlo però l'età avanza e se giochi sempre meno poi è normale che al uno dei pochi tornei che giochi vai a perdere da Nardi nei primi turni e ormai beh per affrontare Sinner se si è test di serie abbastanza alte uno deve arrivare sostanzialmente in fondo ai tornei e se il serbo continua così mi sa che non rivedremo tante volte una sfida tra i due quindi godiamoci le prossime che arriveranno sono state quattro bellissime settimane negli Stati Uniti questo va detto ma è il momento di ritornare a un fuso orario decente per noi, ovvero il nostro questo significa che è iniziato aprile e che è iniziata la stagione su terra battuta che è sempre un piacere per me vederla perché la associo sempre a un clima mite non troppo caldo, sole, poi vabbè pure al mio compleanno che è tra poco ma comunque, soprattutto Monte Carlo mi ricordo quando ero a scuola alle superiori e mi mettevo il cellulare nell'astuccio per controllare tutti i risultati per tenerli d'occhio per poi sfogare finalmente la mia voglia di vedere le partite una volta salito sull'autobus e una volta finita la mattinata proprio a scuola insomma, 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 è iniziata la stagione sul rosso e invece ci sono ben tre tornei, 3-2.50 prima Estorillo in Portogallo che vabbè è iniziato oggi per via della continua pioggia nei primi giorni il tristissimo torneo di Houston e poi Marrakesh dove oggi giocheranno o avranno giocato, dipende un po' da quando vedrete questo video ben quattro italiani uno dopo l'altro ci aspettano delle belle settimane ragazzi, ci aspettano delle belle settimane voi intanto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto se vi ha fatto proprio cagà mi raccomando continuate a seguirmi e seguitemi anche sulla pagina di 15.0 su Instagram e su X o Twitter perché ora faccio parte anche io della loro banda quindi ragazzi noi ci vediamo alla prossima ciao